Piccola deviazione dal viaggio spirituale ad Assisi per andare a visitare la cascata più alta d'Italia, la cascata delle marmore. Eccomi alle cascate. La cascata è rumorosa e bagnata. Eccomi alle cascate. La signorina all'ingresso mi ha preso per un turista della domenica, anche se oggi è domenica, e mi ha detto guardi che sentiero 1 è quello più difficile, sono 600 gradini. Ma io cosa sono venuto qui a fare, scusi eh? E' arrivato il bel vedere superiore. Diciamo che le scaline in salita si sono fatti sentire, faceva anche caldo. Adesso sto tornando, si sente l'acqua fresca, mi sto avvicinando alla cascata quindi va molto meglio.